Non credo che la crisi sia superata, la strada è ancora in salita, non siamo fuori dal tunnel. Lo ha detto intervistata dalla DN Cronos l'imprenditrice Elenia Lucaselli, candidata alla Camera per Fratelli d'Italia in Emilia Romagna e per il centrodestra all'Uninominale di Modena. Io non credo affatto che la crisi in Italia sia superata. Il PD, i governi di sinistra tendono a dire che adesso è il momento in cui dobbiamo dare fiducia, che bisogna mantenere, che bisogna essere costanti. No, è proprio il contrario. Adesso bisogna dare un segnale forte, bisogna assolutamente cambiare rotta per far capire che l'Italia ha una possibilità. È un paese arrabbiato quello che è emerso dall'intensa campagna elettorale che Lucaselli sta svolgendo per tutta l'Emilia Romagna. È un'Italia davvero arrabbiata, triste, disillusa e senza sogni, il che rappresenta il vero problema perché quando un popolo smette di sognare sostanzialmente dichiara di essersi arreso e quindi diventa poi facile preda per i predatori. E questo invece in Italia non deve succedere perché noi veniamo dal paese più bello del mondo. Io non lo dico solo da patriota, lo dico perché ho un'esperienza all'estero e quando sono all'estero e dico che sono italiana tutti quanti mi trovano il nonno, lo zio, il parente, mi dicono la parola in italiano. E questo fa capire quanto in realtà poi all'esterno, quindi al di fuori dei confini dell'Italia, l'Italia sia veramente apprezzata. Il problema è che purtroppo oggi gli italiani si vergognano di essere italiani. Il tema della sicurezza è tra le priorità di Lucaselli che lancia un chiaro messaggio politico. Soprattutto in Emilia Romagna, io non avevo la percezione chiara di quello che in realtà succede nell'Emilia Romagna fino a quando non ho iniziato a girarla in questi giorni. Io ho vissuto per tanti anni a Modena perché ho passato gli anni dell'università. In realtà adesso camminare per le città dell'Emilia Romagna è davvero molto triste e molto pericoloso perché ci sono delle zone, per esempio a Bologna c'è Piazza Verdi, una su tutte, in pieno centro storico, che sono zone assolutamente sottratte all'utilizzo dei cittadini perché sono un covo di droga e attività delinquenziale. Quindi assolutamente la sicurezza è un elemento fondamentale che ne dicano le percentuali.